Ciao a tutti, domenica 20 luglio. Vorrei dirvi un po' di cose che faccio prima parlando, che non scrivendo è un po' lunghina, spero abbiate la pazienza di sentire tutto. Nelle prossime settimane andremo avanti con la discussione e le votazioni sulla riforma del Senato. Io vi avevo già scritto, vi avevo già preallertato che questa sarà una delle battaglie principali dei prossimi mesi, non solo delle prossime settimane. Quindi volevo riassumere due o tre concetti nella speranza che poi si riesca a parlarne con la gente, perché l'obiettivo principale è parlare con la gente, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Premessa, mi scuso per la banalità, ma cerco di riassumere una serie di concetti che magari non tutti conoscono. In Italia ci sono tre funzioni principali, la funzione legislativa, la funzione giudiziaria e la funzione esecutiva. La funzione giudiziaria, lo sappiamo benissimo, sono i tribunali, i giudici, i processi. La funzione legislativa è appunto il Parlamento, le due Camere, deputati e senatori. La funzione esecutiva è il governo che normalmente dovrebbe eseguire quello che la funzione legislativa, cioè il Parlamento, ha deliberato. Sapete bene che da una decina di anni, da alcune legislature, il governo ha bellamente scippato la funzione legislativa con un uovo di colombo, cioè l'emanazione continua di decreti legge che le Camere poi entro 60 giorni devono convertire oppure possono tranquillamente anche bocciare, comunque le devono in ogni caso esaminare entro 60 giorni. E questa è la prima grande cosa di cui parlare ai cittadini, nel senso che il primo organo che non rispetta le leggi è il governo, perché la Costituzione dice esplicitamente all'articolo 77 che il governo può emanare decreti solo in casi di estrema necessità ed urgenza. Siccome la Costituzione è stata scritta subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e dopo l'esperienza fascista nella quale i poteri governativi erano immensi mentre il Parlamento era un mero fantoccio, era chiaro che per casi di straordinaria necessità e urgenza, come dice comunque la frase, si devono intendere guerre, alluvioni, terremoti, catastrofi. Questo è l'unico momento in cui il governo, in via eccezionale, può emanare un decreto legge. Invece appunto da diversi anni lo fa costantemente scippando del potere legislativo il Parlamento. In realtà c'è un'unica ulteriore eccezione in cui il governo può legiferare e sono i famosi decreti legislativi, articolo 76 della Costituzione, ma in questo caso è il Parlamento che ordina al governo di legiferare su una determinata materia, però già indicandogli criteri e principi, criteri e principi per cui il governo si muove su mandato del Parlamento e non di sua sponte e con una cornice già delineata, cioè principi e criteri direttivi già fissati dal Parlamento. Quindi ribadiamo l'Italia che dovrebbe essere una repubblica parlamentare, è diventata a diversi anni una repubblica governativa e il governo è il primo soggetto che non rispetta la legge delle leggi, cioè la Costituzione. Allora queste riforme del Senato erano state proposte diverse volte da Berlusconi, si era arrivati nel 2006 anche a un referendum che avrebbe potuto confermare e invece ha bocciato una riforma simile, chiaramente non identica ma sempre tesa al superamento del bicameralismo perfetto e perché si dice che si vuole superare il bicameralismo perfetto? Perché rallenterebbe la produzione normativa, rallenterebbe la produzione normativa, ma noi italiani siamo famosi per un iper, per una sovra produzione normativa, abbiamo 150.000 leggi, la Francia e la Germania ne hanno 10 volte di meno, quindi semmai il problema non è che ci sono poche leggi o che il Parlamento non produce leggi, ma proprio il contrario, ne produciamo troppe. Molto spesso non sono coordinate tra di loro, non sono sistemiche tra di loro, ci sono problemi interpretativi e poi come ha detto lo stesso Renzi, le leggi ci sono ma non vengono rispettate e io vi ho appena descritto che il primo a non rispettarle è proprio il governo che non rispetta la legge delle leggi, la Costituzione. Nel 2006 gli italiani bocciarono una riforma simile con un contributo determinante del PD che allora si batte fortemente contro una riforma simile a quella che vogliono fare adesso, anzi si batte contro una riforma che era più morbida, adesso vuole fare una riforma ancora più secca. Il Senato a qualcosa serve, lo ha detto anche Renzi, parlando un paio di settimane fa della responsabilità civile dei magistrati, alla Camera dei Deputati hanno commesso un errore e Renzi ha detto papale, papale, correggeremo al Senato. Ah beh allora quindi serve a qualcosa, certamente serve a qualcosa. Sul discorso della riduzione dei costi non vi sto ad annoiare, sapete benissimo che i costi che si risparmierebbero sono, ufficialmente sono 45 milioni perché noi abbiamo il nostro questore, la Laura Bottici che ha potuto verificare tutti i conteggi e quindi sono 45 milioni, ma anche se fossero due o trecento milioni, capite che stiamo parlando di cifre che potremmo risparmiare con per esempio rinunciando a un solo F35, oppure dal punto di vista elettrico sapete che mi occupo di energia, rinunciando agli interconnector virtuali o al meccanismo dell'interrompibilità che sono dei meccanismi che non sono più giustificati dalla situazione attuale. Allora fin qui per quanto riguarda una breve situazione sulle riforme del Senato, però la gente vuole naturalmente che noi diamo anche proposte, parlare solo della riforma del Senato chiaramente non possiamo pretendere che ci stiano ad ascoltare molto volentieri. Quindi ricordiamoci sempre delle proposte per creare lavoro. Abbiamo due proposte essenziali, naturalmente io dico le mie, i colleghi sicuramente vi informeranno con altre proposte. Parliamo naturalmente del settore efficienza energetica e fonti di energia rinnovabile. Sull'efficienza energetica abbiamo un patrimonio edile da ristrutturare, se dovessimo agire seriamente recependo la direttiva 27 che ci impone di fare efficientamento energetico degli edifici, creeremo lavoro per centinaia di migliaia di posti di lavoro. Abbiamo l'intero patrimonio che è da sistemare dal punto di vista energetico e dal punto di vista sismico e creeremo lavoro da nord a sud perché ovviamente queste situazioni ci sono dappertutto. Personalmente spingerò ancora per la stabilizzazione della detrazione fiscale del 65% che scade il 31 dicembre dell'anno prossimo, 2015. Se la stabilizziamo fino a 2020, riusciremo a creare centinaia di migliaia di posti di lavoro. La stessa cosa vale per le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili sono purtroppo sotto attacco, hanno portato via già un terzo del fatturato alle energie prodotte da fonti fossili. Siamo in situazioni in cui le grandi aziende nazionali, scusate, le grandi aziende che sono forti consumatrici di energia, la pagano 3 centesimi al kilowatt. 3 centesimi al kilowatt. Andate a vedere voi sulla vostra bolletta quanti ne pagate. Sarà facile che ne paghiate esattamente 10 volte di più. Capite che stiamo parlando di un settore che ha degli interessi in gioco enormi e le rinnovabili sono già fonte di lavoro per molte persone, ma con una politica che a questo punto le ostacolasse di meno, perché non parliamo più ormai di incentivazione, che le ostacolasse di meno creerebbero molti più posti di lavoro. In questo momento il settore incentivato è soprattutto quello delle biomasse, molto probabilmente sono sovra incentivate, ma non è un settore diffuso in maniera capillare in tutta Italia. Una centrale a biomassa non è un qualcosa di domestico, è un qualcosa di più grande, quindi non avrà mai una penetrazione come possono avere i classici 3 kilowatt di fotovoltaico sul tetto. sull'elettricità l'ultima cosa che vi dico è che il prezzo all'ingrosso negli ultimi anni si è dimezzato, si è quasi dimezzato perché siamo passati dagli oltre 70 euro agli attuali circa 43 euro a megawattora. Quindi noi adesso stiamo spingendo affinché questo abbassamento enorme di prezzo si rifletta anche sulle bollette perché finora è rimasto incastrato soprattutto nei vari anelli della catena distributori e purtroppo anche tassazione. Oltre a queste proposte che passeranno per forza di cose dalla politica, cioè il fatto di stabilizzare l'eco bonus e quindi di lavorare sull'efficientamento energetico e di favorire o comunque non sfavorire le rinnovabili sono proposte politiche, vi ricordo le proposte extra politiche che io comunque mi permetto di fare sempre e invito veramente tutti gli attivisti a considerarle perché queste non devono passare attraverso il collo di bottiglia della politica, le potete fare voi domani mattina in mezz'ora di tempo. cambiare banca, le banche hanno una influenza enorme nella nostra vita e gestiscono il nostro denaro molto spesso in maniera non equa, men che meno etica. Cambiate banca, passate ad una banca etica, io conosco banca etica, non mi risulta ce ne siano altre, se ce ne sono altre ben vengano, ben volentieri. Cambiate assicurazione, quasi tutti avrete un'automobile e quindi l'assicurazione è auto obbligatoria, anche lì sono milioni, centinaia di milioni di euro su un circuito che comunque è vizioso perché anche le assicurazioni lavorano pesantemente con la finanza speculativa. In media in Italia l'80% delle operazioni finanziarie sono operazioni speculative, cioè non hanno niente a che vedere con l'economia reale, solo sono scommesse, sono giochi di casino in cui si scommette che il prezzo salga o scenda perché si può scommettere in entrambi i versi. Quindi cambiate banca, cambiate assicurazione, cambiate fornitore di elettricità, vi parlavo prima di efficienza energetica e fonti rinnovabili, moltissimi di voi avranno come fornitore di elettricità Enel, Sorgenia di De Benedetti, Edison che è la società di EDF, quindi la società francese che gestisce le centrali nucleari, anche in questo caso cambiate fornitore, semplici telefonate, semplici clic al computer, non occorre perdere tempo, code agli sportelli, niente di niente, sono cose molto indolori e che non vi costano un centesimo in più perché quando vi ho detto cambiate banca, cambiate assicurazione, cambiate fornitore di elettricità, non vi costa un centesimo in più. Cambiando elettricità potete passare a un fornitore che vi porta a casa il 100% di energia rinnovabile, da fonte rinnovabile, quindi senza passare per la politica sarete voi ad agevolare direttamente le fonti rinnovabili. Premesso sempre che la prima cosa da fare se avete qualche soldino è efficientare l'abitazione, efficientare l'abitazione da un punto di vista di isolamento comunque vi darà il rendimento migliore in assoluto. Altre due cose, commercio ecosolidale e gruppi di acquisto. La grande distribuzione organizzata è una delle altre grandi lobbies al pari delle banche, assicurazioni e energie e produttori elettrici, il commercio è un'altra delle grandi lobbies. Potete cambiare anche in questo caso acquistando una parte della vostra spesa al commercio ecosolidale, il marchio Fairtrade lo trovate in tutti i negozi, Panorama, Carrefour, Aushan, Lidl, lo trovate in moltissime grandi distribuzioni, c'è il banchetto Fairtrade e poi avete quello che è il commercio ecosolidale locale, cioè i gas, i gruppi di acquisto solidale che sono dei gruppi di acquisto di normali cittadini che però vanno a selezionare i fornitori locali per tutto ciò che può essere prodotto localmente, formaggi, carne, frutta e verdura e selezionano comunque produttori conosciuti e testati per i prodotti invece che non si possono coltivare localmente. Quindi anche in questo caso senza passare per la politica potete cambiare radicalmente la struttura delle grandi lobbies che ci governano di fatto. Ultima cosa, come facciamo a spiegare quello che ho cercato di illustrarvi molto brevemente alla gente, come facciamo a farla venire agli incontri, visto che abbiamo l'esperienza delle ultime lezioni in cui era estremamente difficile appunto far venire la gente agli incontri. Allora, un tentativo di soluzione sono la creazione di associazioni culturali apartitiche, perché sappiamo che se noi organizziamo la manifestazione X con l'oggetto X, però organizzata dal Movimento 5 Stelle, la manifestazione è già marchiata, è già preimpostata, quindi una parte della cittadinanza non verrà semplicemente perché non ritiene opportuno di venire a incontri 5 Stelle. Allora un cavallo di Troia può essere quello dell'associazione culturale apartitica, che quindi organizza questi incontri in maniera appunto apartitica. Questi incontri possono essere su aspetti diciamo così ludici del tempo libero, allora per esempio vi avevo mandato un'email sulla fiera vegetariana, vegana, che si farà domenica prossima, si può organizzare, qui ci si può sbizzarire di fantasia, c'è chi organizza la fiera degli aquiloni, ci si può inventare un po' di tutto su aspetti ludici. Su aspetti invece seri, anche qui spazio alla fantasia, si possono fare incontri spiegando le agevolazioni sulle ristrutturazioni edili, si può fare come titolo risparmiare sulla spesa, come investire i propri risparmi, come tutelare i propri risparmi, come tutelare i propri interessi e parlare un po' delle cose che vi ho spiegato prima e poi naturalmente ci si integra il discorso, ci si infila dentro anche qualche messaggio 5 stelle. Perché no? Si può parlare di cose più generali e poi si può fare un'integrazione con quelle che sono le proposte, la filosofia e il programma 5 stelle. Scusatemi se ne sono stato lungo, ma ci tenevo a rilanciare la palla sia sulla riforma del Senato, sia su possibili argomenti di cui si può parlare con i cittadini e come eventualmente superare l'impasse che ci trova in questo momento in difficoltà nell'organizzare incontri a cui fa venire la cittadinanza. Io spero che i vari gruppi locali si attivino, io e gli altri parlamentari veneti sicuramente saremo a disposizione nei weekend, quindi sapete bene che se organizzate qualcosa venerdì sera, sabato o domenica, avvisandoci con un anticipo congruo sicuramente verremo se la presenza sarà ritenuta utile. Grazie, alla prossima.